buon pomeriggio a tutti sono le 17 del 28 luglio e sabato quindi ci vediamo nel solito orario pomeridiano quello scelto appositamente per non disturbare il vostro pranzo con le famiglie soprattutto alla fine di luglio immagino che alcuni di voi mi stiano ascoltando magari da luoghi di vacanza visto e considerato che siamo ormai nel pieno dell'estate io approfitto per dirvi da subito che il nostro incontro di domani la nostra diretta di domani ci sarà di nuovo alle ore 17 quindi rispettiamo anche di domenica l'orario del fine settimana vi ricordo naturalmente di pigiare su questa freccetta dove trovate scritto condividi in modo tale da allargare il pubblico vedo anche alcuni amici che si stanno aggiungendo e li saluto tra il pubblico di questa diretta quindi ricordate di condividere il video e di condividere anche appunto il video che resta registrato dopo la diretta e che trovate sul mio sito ivanscalfarotto.it su questa pagina facebook e naturalmente anche su youtube ho intitolato questa diretta cattive notizie dall'italia perché sembra sembrava impossibile sembrava appunto un film dell'orrore come ho scritto su facebook ma a questa maggioranza riesce a produrre cose che vanno sempre al di là dell'immaginazione ovviamente delle loro divisioni politiche conosciamo tutto ormai avete sentito le lamentele che si stanno sollevando da parte di tutto il mondo imprenditoriale non soltanto per il decreto disoccupazione che sta creando naturalmente molto scompiglio e anzi ci sono già tanti lavoratori che stanno segnalando il fatto che perderanno il posto di lavoro a causa di questo decreto infatti tutti quelli che hanno contratti fino a 24 mesi non potranno vederseli rinnovare e quindi ormai i casi le segnalazioni si stanno moltiplicando sapete i lavoratori della nestlé ma repubblica proprio in queste ore ha pubblicato il caso di una mamma che appunto ha detto sono una vittima del decreto di maio non soltanto questo anche tutto il tema delle grandi opere mi riferisco in particolare all'alta velocità la torino lione che sapete toninelli dice di voler bloccare insieme a di maio insieme a conte anche lì si stanno sollevando si stanno levando voci di protesta da parte del piemonte che effettivamente verrebbe tagliato fuori da un'infrastruttura fondamentale e quindi come dico sempre i nodi vengono al pettine verranno al pettine vedremo a settembre quando si tratterà di fare la manovra economica la nota di variazione al def poi la legge di bilancio come tutte le promesse che sono state fatte dalla maggioranza in campagna elettorale si scontreranno contro i niet contro gli altolà del ministro dell'economia tria che naturalmente non ha i soldi una volta trovati i fondi per bloccare le clausole di salvaguardia che comporterebbero l'aumento dell'iva non troverà sicuramente i soldi né per abrogare la fornero né per la flat tax né per il reddito di cittadinanza figuriamoci o le accise ricordate le accise che il buon salvini prometteva di eliminare sulla benzina sin dal primissimo consiglio dei ministri tutto come dire una sorta di lista di babbo natale che si bloccherà l'unico punto sul quale la maggioranza naturalmente sorvolo sui diritti civili per pura carità di patria l'unico punto invece dove la maggioranza trova un meraviglioso accordo è la loro bulimia rispetto alle poltrone avete visto tutto quello che è successo sulla cassa depositi e prestiti tria che ha sostanzialmente barattato la posizione dell'amministratore delegato in cassa depositi e prestiti per poter riconfermare il ragioniere generale dello stato e il direttore generale del ministero ma appunto ovviamente vi abbiamo raccontato vi ho raccontato della decapitazione dei vertici di ferrovie italiane di ferrovie dello stato che avevano fatto benissimo e che sono stati rimossi non per questioni di meritocrazia ma puramente di appartenenza politica però appunto l'accordo su queste poltrone si trova e ieri è stato sancito questa diciamo questo scandalo della nomina di marcello foa alla presidenza della rai fatemi dire subito una cosa è un accordo che in realtà non è ancora andato in porto perché il presidente della rai deve essere approvato da con i due terzi dei voti della commissione di vigilanza rai in commissione di vigilanza lega e 5 stelle hanno soltanto 21 voti su 40 quindi con i voti a loro disposizione non sarebbero in grado di confermare la nomina di tria per fare così per fare questo quindi per perché chiedo scusa di foa per fare in modo che foa sia effettivamente acceda effettivamente alla presidenza della rai ci vorranno i voti di forza italia e quindi una cosa che noi del pd stiamo dicendo in modo molto chiaro netto ed evidente a forza italia che non dovranno non devono secondo noi aggiungere i loro voti a quelli di lega e 5 stelle per la nomina di un personaggio che guardate è veramente inquietante non soltanto perché appunto ha fatto dei tweet sul presidente della repubblica che certamente non si addicono al presidente della principale azienda la principale impresa culturale italiana che la nostra televisione di stato ma la cosa che mi preoccupa di più è la vicinanza di questo personaggio di questo foa in realtà alla russia di putin ai movimenti no euro lui è stato uno di quelli che ha rituitato come si dice i tweet di francesca totolo sapete questa signora quella che ha lanciato signora dico così per dire che ha lanciato la fake news delle unghie smaltate della migrante josefa o josephine vi ricordate che era stata recuperata in mare con quello sguardo terribile atterrito che non che non ci dimenticheremo ecco questo personaggio appunto vicinissimo alle posizioni sovraniste putiniane è un ospite molto frequente di russia today che è la emittente in lingua inglese del governo del governo russo dovrebbe diventare il presidente ripeto della principale impresa culturale del nostro paese quella che più produce appunto contenuti politici di informazione di approfondimento culturale la rai è l'azienda che ha insegnato agli italiani a parlare italiano a leggere e scrivere che i più quelli più più capelli bianchi di me ricordano il maestro manzi non è mai troppo tardi è stata la televisione che ha fatto l'unità d'italia per davvero che ci ha consentito di imparare a parlare tutti la stessa lingua e diventare davvero un paese unito ebbene questa maggioranza per questa azienda così importante così parte della storia del tessuto culturale del nostro del nostro paese non soltanto fa un accordo puramente lottizzatorio ma trova una persona che esprime una vicinanza diciamolo chiaramente ha una potenza straniera e non amica non una potenza alleata a parte il fatto che io vorrei qualcuno fedele soprattutto al tricolore soprattutto all'italia la nostra alla nostra patria e quindi non non particolarmente qualcuno amico di qualcun altro ma in questo caso in particolare io credo soprattutto per le inquietudini che l'interventismo russo sulla politica internazionale insomma siamo in una fase storica nella quale il congresso degli stati uniti ha un magistrato speciale che indaga sulle interessenze e sugli interventi russi nelle elezioni presidenziali degli stati uniti insomma parliamo di non di un libro di le carree stiamo parlando di questioni che tengono col fiato sospeso il mondo intero e noi andiamo a scegliere per quel per quell'incarico che dovrebbe essere un incarico di garanzia un personaggio con questo profilo intendetemi io so benissimo che come dire che chi è senza peccato può scagliare la prima pietra che la politica in genere ha avuto rispetto alla rai un atteggiamento diciamo così spesso lottizzatorio però io penso che anche la lottizzazione che sicuramente è una pratica censurabile diciamo non non auspicabile può dar luogo alla selezione di personaggi di un certo profilo di un alto profilo o di un profilo molto basso allora io avrei compreso e capirei anche come dire la scelta per esempio dell'amministratore delegato di questo salini che sembra essere appunto una persona che si è sempre occupata di televisione e che come dire da qualche garanzia avrà delle simpatie politiche lo posso comprendere però da garanzia di essere una persona in grado di svolgere quel compito in modo come dire accettabile dal punto di vista dei requisiti professionali morali ma prendere chi ha definito disgustoso l'atteggiamento del presidente della repubblica cioè del massimo arbitro delle nostre istituzioni che ha correttamente come poi è stato dimostrato da tutti anche da chi come di maio ne chiedeva l'impeachment la settimana prima ha dovuto chiedere scusa come dire rimangiandosi in modo anche secondo me particolarmente brutto diciamo le minacce di impeachment ecco e quindi la correttezza del presidente della repubblica è stata alla fine riconosciuta da tutti anche appunto da chi urlava all'alto tradimento l'idea di scegliere una persona che ha definito il comportamento impeccabile dal punto di vista costituzionale del presidente mattarella definito disgustoso e farlo presidente della rai è qualcosa che secondo me va al di là veramente di ogni immaginazione quindi l'appello a forza italia deve essere chiaro io penso che tutti voi anche che mi state seguendo che state sui social media il mio invito anche di parlare ai vostri ai deputati del vostro territorio eletti nelle liste di forza italia di scrivere loro di scrivere a tutti i principali esponenti di forza italia maria stella gelmini che è la presidente del gruppo alla camera all'anna maria bernini che la presidente del gruppo al senato a mara carfagna che la vicepresidente della camera a elisabetta casellati che la presidente del senato tutti personaggi a giorgio mulè il portavoce di forza italia la camera dei deputati insomma scrivete al vostro deputato di collegio al vostro deputato del territorio scrivete ai dirigenti di forza italia e dite loro che siete contrari alla conferma di marcello foa a presidente della rai perché la rai merita di più il paese merita di più ripeto capisco benissimo la vicinanza politica capisco benissimo l'affinità che può esserci con il governo d'altro canto si tratta di nomine governative che la legge prevede come nomine governative ma non è pensabile che appunto l'ospite di russia today il rituitatore di francesca totolo appunto un personaggio di questo genere sovranista filo russo e insomma ho detto tutto possa andare a ricoprire quell'incarico è veramente una cosa inaccettabile io penso che sia il abbiamo toccato in pochissimo tempo il fondo da parte di una maggioranza ripeto divisa in tutto ma non sulle poltrone se questo succede nel palazzo fuori dal palazzo accadono cose altrettanto preoccupanti ieri due casi di migranti colpiti con fucili a piombini o gommini quindi con armi diciamo comunque pericolose uno a vicenza l'altro a caserta tutto è cominciato ricordate con su mai la sacco che è stato ucciso il 3 di giugno vivo valencia ma ricordate la bambina rom romana colpita il 17 di luglio soltanto pochi giorni fa e che rischia di restare paralizzata dal 3 giugno quindi dal dall'uccisione di sacco sono stati colpiti nove tra migranti e rom con pistole o armi comunque pericolose ricordiamo benissimo il caso di macerata naturalmente con il nostro famoso sparatore che andò in giro per la città sparando le persone soltanto per il colore della pelle appunto da un'automobile si sta manifestando una forma di razzismo violento che io penso non appartenga alla cultura del nostro paese e sta uscendo la peggiore feccia e i peggiori istinti di un pezzo secondo me io penso sono convinto minoritario di questo paese ma stanno mostrando al mondo e noi stessi un'immagine dell'italia che non possiamo accettare è una cosa vergognosa io penso che sarebbe molto bene per esempio che il ministro dell'interno e vice premier sempre così vocale sempre così presente sulla qualunque straparla di crimea straparla di vaccini si comporta come fosse appunto il ministro degli esteri il ministro della sanità il governo tutto e su questi attentati su queste persone innocenti addirittura bambini che vengono colpiti matteo salvini non dice una parola e questo è molto grave anche perché la sua responsabilità istituzionale sarebbe quella di proteggere l'incolumità di tutte le persone che sono in italia indipendentemente dal loro passaporto indipendentemente dal colore della loro pelle e questo non sta succedendo un salvini così iperattivo su cose che non lo riguardano non dice una parola e in qualche modo con il suo silenzio non scoraggia quanto dovrebbe l'emulazione questa è la cosa molto grave che una cultura razzista che si sta facendo strada in un modo secondo me gravissimo sta dando luogo a questi fenomeni che cominciano a preoccupare per il numero perché si susseguono l'una dopo l'altra e ripeto nel silenzio tombale del ministro dell'interno che è il responsabile di tutto questo è una cosa molto 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 grave che io penso la denunciata in modo estremamente chiaro così come va denunciata in modo estremamente chiaro la manovra di svilimento delle istituzioni che sta facendo il movimento 5 stelle oggi grillo è tornato a parlare a blaterare non so come dire a straparlare anche lui di una democrazia fatta per sorteggio giustamente gli ha risposto sabino cassese dalle colonne del corriere della sera chiedendogli se lui per caso sorteggia l'idraulico quando deve appunto farsi riparare i tubi a casa e verrebbe da dire se sorteggia così per scegliere chi deve pilotare l'aereo il treno che prende per andare in viaggio se la persona che appunto si prende quella responsabilità viene sorteggiata a caso non si capisce per quale motivo chi si occupa di governare la cosa pubblica non debba avere delle competenze delle conoscenze che magari non siano specifiche ma che siano tali da consentirgli di affrontare la responsabilità che gli è stata data questo svilimento delle istituzioni fa poi il paio con le dichiarazioni di davide casaleggio ricordate di qualche giorno fa che ha detto che tra un po tra qualche anno tra qualche lustro ha detto lui il parlamento sarà inutile poi alla fine se tanto mi dà tanto arriva il consigliere comunale del comune di termoli che magari è meno sofisticato e meno diciamolo anche meno intelligente di davide casaleggio di beppe grillo e questo consigliere comunale grida in aula che quando loro saranno al potere ci sarà la dittatura che poi la traduzione diciamo così in italiano più terra terra dello stesso concetto a me il momento 5 stelle preoccupa moltissimo proprio per questo perché in realtà il loro piano strategico con piano politico molto chiaro è quello di dimostrare a tutti che le istituzioni non servono e quando avranno dimostrato che le istituzioni non servono si potranno rimuovere le istituzioni e spostare la sovranità popolare sui server della casaleggio qui a milano questo è il piano diciamocelo chiaramente ora la morale di tutto questo le nomine in rai la gente che spara per la strada ai rom e gli immigrati appunto lo svilimento delle istituzioni orchestrato dal movimento 5 stelle e tutto questo occupa le pagine dei nostri giornali mi induce a chiudere con un appello che io voglio fare in modo molto netto a tutte le persone che mi ascoltano questa diretta le dirette in generale le persone che si riconoscono nelle politiche non soltanto del partito democratico ma di tutti i partiti di opposizione è la preghiera l'appello accorato a non fare un passo indietro a non temere di esprimere le vostre opinioni a non rinculare a non tornare indietro pensando che 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 questo razzismo questo questa sorta di eversione strisciante sia diventata maggioritaria che quindi le persone di buona volontà e di buon senso fanno meglio a rinchiudersi in casa e a tenere i propri pensieri per sé se c'è un momento nel quale diventa importante l'impegno individuale la riaffermazione da parte di ciascuno di noi delle idee di libertà di apertura di progresso di inclusione di europeismo se c'è un momento nel quale l'impegno di ciascuno personale che diventa politico è importante è questo questo è il momento di rintuzzare il collega di ufficio la signora dell'ufficio postale il negoziante sotto casa che dice cose in linea con quelle che stanno facendo lega 5 stelle ecco questo è il momento che voi diciate di che non siete d'accordo che sono scemenze che non va bene che credete in un mondo diverso noi facciamo la nostra parte in parlamento faremo un'opposizione durissima io per quello che posso utilizzo tutti gli spazi come queste dirette facebook per affermare con chiarezza e con forza alcuni principi che secondo me sono di civiltà prima ancora che politici ma non possiamo essere noi diciamo sufficienti noi che siamo nelle istituzioni se voi che state nel mondo nelle nostre città negli uffici nelle case nelle famiglie non fate la vostra parte che è quella di dire che non ci state che non va bene che quello che vedete non vi piace non è soltanto il voto è importante in questo momento riempire virtualmente le piazze ma anche le strade del paese gli uffici gli uffici postali gli ospedali i tribunali tutti i luoghi dove non facciamoci intimorire l'italia non può essersi modificata in modo così radicale da quattro marzo diciamo dopo il quattro marzo siamo ancora il paese della civiltà un paese la cui storia è una storia che racconta della cultura appunto dell'amicizia dell'inclusione siamo ancora italiani brava gente io lo penso con tutto il mio cuore e per questo se una minoranza perché di questo si tratta anche con una voce molto forte con una stampa che la guarda probabilmente un'opinione pubblica che la guarda in parte con una luna con una fase di luna di miele questo non deve impedirci di restare saldamente vicini ai nostri valori io vi chiedo scusa se l'ho fatta un po dura quest'oggi ma sono francamente preoccupato diciamo che gli eventi che si stanno inanellando mi preoccupano e penso che sia il momento di una sorta di resistenza civile attiva perché appunto non possiamo star zitti davanti alle cose che vediamo io mi fermo qui come vi ho detto l'appuntamento per domani alle ore 17 come al solito vi prego di piggiare sulla freccetta del condividi anche se mi vedete non in diretta ma più tardi nella giornata e vi ricordo naturalmente questo video resterà sul sito ivanscalfarotto.it su questa pagina facebook e su youtube ci vediamo domani alle ore 17 nel frattempo vi auguro un ottimo sabato sera ciao